ed eccoci arrivati anche alla top 10 dei migliori manga usciti in giappone negli anni 70 ciao a tutti benvenuti o ben ritrovati qui sul canale io sono kirio e oggi vediamo i migliori manga degli anni 70 ovviamente vi faccio una piccola premessa iniziale è molto difficile per me scegliere queste top attenendomi anche alla mia regola autoimposta di non mettere o di cercare di limitare il più possibile di mettere più volte in diverse top gli stessi manga ma come immaginerete è molto difficile soprattutto per quanto riguarda i primi anni quindi gli anni 50 dove addirittura la top non c'è stata per la carenza di manga di quell'epoca pubblicati in italia così come gli anni 60 e 70 e quindi per forza di cose in queste top qualche ripetizione con altre liste o classifiche ci sarà e così è appunto per il primo titolo che vi presento ovvero devilman di gonagai un'opera totalmente imprescindibile che non si può non mettere secondo me in una classifica dei migliori manga degli anni 70 perché ha veramente rivoluzionato il fumetto giapponese come mai prima di allora probabilmente come forse solamente tezuka aveva fatto con la nuova isola del tesoro devilman è un'opera meravigliosa che ci racconta questa epopea di akira fudo e del suo amico rio asuka una dicotomia tra l'altro che verrà poi riproposta in tantissimi altri manga e anime anche successivi alla pubblicazione di devilman questo manga che ci parla della guerra ci parla del rapporto tra gli umani stessi perché poi come saprete già se lo avete letto e come scoprirete quando lo leggerete non se perché dovete leggerlo assolutamente ci sarà proprio una battaglia interna al genere umano nonostante questa venga scatenata da un fattore esterno che è quello dei demoni che arrivano per riprendersi la loro terra effettivamente poi il conflitto maggiore sarà proprio tra gli uomini stessi un'opera meravigliosa un'opera senza tempo che non verrà mai scalfita da nessun evento esterno e che nessuno potrà mai togliere dall'olimpo del manga e lo stesso status di leggenda lo assume assolutamente anche la prossima opera che avete già visto purtroppo in un'altra mia top perché anche lì deve esserci per forza ovvero la top sui manga sui samurai lo wolf e cab kozure okami di goseki kojima e disegni e il magistrale kazuo koike alla storia cosa dire che non sia già stato detto di questo seinen storico bellissimo incredibile impressionante la storia di ogami ito che come boia dello shogun andrà avanti e indietro in lungo e in largo per il giappone del diciassettesimo secolo insieme al suo piccolo cucciolo il figlio che si porterà dietro ed era proprio questa forse una delle maggiori particolarità che segnarono quel tipo di manga perché effettivamente non si era mai visto un manga dove il protagonista un samurai retto senza paura super coraggioso si portasse dietro un bimbo sicuramente anche qui un manga da leggere assolutamente se siete appassionati del fumetto giapponese e soprattutto se siete appassionati di un certo periodo storico e appunto di quella mitologia di quella leggenda che ormai è entrata a far parte anche della cultura occidentale attraverso appunto manga film e quant'altro ovvero quella sui samurai un'opera che sono sicuro pochi di voi conosceranno è ankoku shinwa il mito oscuro un volume unico di dai giro moroshi un autore sicuramente abbastanza sconosciuto ai più che magari sentirete nominare oggi per la prima volta ma vi basti pensare che dai giro moroshi con la sua carriera ha influenzato personaggi del calibro di idea che hanno e a yaomi azaki per dire proprio due nomi a caso anche qui siamo nel mito nella leggenda ma ancora più antica rispetto a quella dei samurai e seguiamo la vicenda di questo ragazzo appunto degli anni 70 ovvero dell'epoca in cui è stato scritto questo manga che però scoprirà pian piano di essere molto più legato di quello che pensa alle radici del suo paese quindi del giappone grazie a dei poteri divini che piano piano si sveglieranno e metteranno questo ragazzo davanti a un dubbio davanti a una scelta molto importante ovvero se usarli per il bene usarli per il male se diventare un portatore di luce o di oscurità davvero super super interessante e spero che di dai giro moroshi qualcuno porti altro perché è un autore che io ho scoperto con quest'opera ma che ne ha fatte veramente tantissime altre e sembrano super super interessanti l'opera successiva è di un'autrice che io amo particolarmente infatti una delle sue opere il poema del vento e degli alberi è ai primissimi posti della mia top 10 shoujo che vi invito a vedere se ancora non l'avete fatto in questo caso però durante gli anni 70 con questa opera che si chiama verso la terra l'autrice keiko takemiya si è cimentata anche con lo shonen quindi la tipologia di fumetto dedicata ai ragazzi e devo dire che la cosa gli è riuscita anche molto molto bene siamo in un'ambientazione futuristica un futuro molto molto lontano che questa autrice immaginava spesso in realtà perché era molto molto innovativa per la sua epoca lei insieme anche alle sue amiche e colleghe del gruppo 24 dove ormai la vita di tutti è controllata da un super computer e questo poneva già all'epoca ma ancora oggi dovrebbe farci riflettere anzi forse ancora di più oggi dovrebbe farci riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e soprattutto su quanto lasciamo prevalere la tecnologia nella nostra vita se oggi è facile quasi fare di questi pensieri perché siamo effettivamente sovrastati dalla tecnologia cellulari tablet e cose simili negli anni 70 sicuramente ci voleva molto più ingegno e molta più lungimiranza che questa autrice sicuramente aveva comunque di quest'opera ho fatto anche una recensione che trovate sul canale se volete saperne di più un'altra opera che ha sicuramente segnato gli anni 70 è capitan arlock di leiji matsumoto un'opera che io definirei per alcuni versi quasi eterea è molto onirica molto malinconica ecco c'è questo senso di malinconia nelle opere di leiji matsumoto che io trovo in pochi altri autori e questo nonostante anche qui ci troviamo in un lontano futuro dato che comunque ricordiamoci che gli anni 70 erano un po quel decennio anche dove il giappone continuava a guardare verso il futuro molto più di quanto si faccia oggi i mangaka erano veramente proiettati verso quello che sarebbe accaduto la loro mente vagava in quello che poteva essere lo spazio e il futuro più remoto e così faceva leiji matsumoto praticamente ci troviamo in un mondo in cui il genere umano pensa ormai di essere arrivato alla fine o meglio se la terra possa essere arrivata alla fine infatti molti degli uomini cercano una sopravvivenza cercano un futuro proprio nei cieli ed è qui che troviamo i nostri protagonisti come arlock e toshiro personaggi che non solo fanno di tutto per sopravvivere attaccati alla vita come non mai ma sono anche davvero pieni di coraggio pieni di ideali di sete di avventura tutto ciò che faceva sognare tantissimo i bambini giapponesi nel dopoguerra e nei decenni immediatamente successivi come questo nonostante capitano arlock sia un seinen e che quindi fosse rivolto ai giovani adulti anche loro ovviamente avevano di che sognare soprattutto in un periodo abbastanza incerto come quello che aveva appena visto passare il 68 e quindi tutti i moti giovanili studenteschi le rivoluzioni tentate o le rivoluzioni davvero tali poteva secondo voi mancare un'opera del maestro tezuka in questa lista se la vostra risposta è stata sì fuori da questo canale ovviamente non poteva mancare anche perché durante gli anni settanta il maestro tezuka ha fatto alcune delle opere a mio avviso migliori mw kirito blackjack delle cose davvero davvero splendide ma per questa lista ho deciso di premiare diciamo così una delle opere forse passata più in sordina ma che è davvero molto molto bella e completa si tratta di un'opera proprio del 1970 ovvero apollo nohuta la canzone di apollo un manga che parla tantissimo del rapporto tra madre e figlio di questo rapporto che a volte può diventare strano morboso che può portare a comportamenti anche particolari se non gestito benissimo da una o da entrambe le parti e questo viene sviluppato attraverso il protagonista shogo che soffre di tantissimi disturbi per essere curato da questi disturbi il nostro shogo viene portato in un istituto di igiene mentale ed è lì che inizierà veramente il manga perché a causa di alcune sedute di elettroshock comincerà ad avere dei sogni e delle visioni molto molto vivide tanto da sembrargli reali da rimanergli impresse in un'opera che veramente ad un certo punto ci farà quasi perdere il sottile confine tra sogno e realtà durante gli anni 70 nel finire del decennio precisamente nel 1978 c'è stato anche il debutto di una delle più grandi mangaka di sempre ovvero rumiko takashi che ha stupito il mercato del manga con urusei yatsura lamu un'opera che è tornata abbastanza in auge di recente anche grazie al remake animato che è uscito da pochissimo rumiko takashi con quest'opera è riuscita anche diciamo ad avvicinare moltissimo il pubblico femminile e maschile infatti nonostante questo sia uno shonen uscito su shonen sunday della shogakan moltissime ragazze forse come mai prima di allora si sono avvicinate appunto a questa tipologia di manga è un'opera che fa ridere tantissimo un'opera davvero con dei tempi comici che hanno fatto ormai scuola uno stile così slapstick immediato pieno di battute continue davvero dall'inizio alla fine di ogni capitolo che è riuscito a far ridere per 34 volumi anche grazie all'introduzione di nuovi personaggi che poi andavano ad inserirsi perfettamente all'interno di questa matassa che era la storia di urusei yatsura in modo del tutto naturale e la creazione di personaggi davvero iconici dalla stessa lamu uno dei più grandi porcelli per antonomasia ovvero ataru mendo sakurambo davvero abbiamo visto dei personaggi lamu davvero iconici e poi c'è anche da dire che questo brand ha dato vita anche ad altre opere altrettanto meravigliose forse ancora di più come i film realizzati da mamoruoshi tra i quali vi consiglio in particolare il meraviglioso beautiful dreamer tra i manga cattivi in quegli anni c'era sicuramente tra i più riconoscibili e tra i più rinomati shigeru mizuki che nel 1971 fa uscire hitler una biografia molto molto particolare incentrata proprio sulla figura del leader del terzo reich questo volume unico che parte appunto dalla gioventù del protagonista che aspirava a diventare un pittore fino a quello che è stato l'estremismo assoluto della soluzione finale con tutto l'orrore portato durante la seconda guerra mondiale darà una visione diversa anche di adolf hitler più umana ma aspettate un attimo non più umanizzante nel senso che non è che hitler cercasse di rendere umano e quindi di far provare compassione verso questa figura no semplicemente lui diceva guardate era un umano non era niente di più niente di meno e quindi cerca di analizzarlo in maniera quanto più possibile lucida fredda e distaccata senza farsi prendere appunto da considerazioni troppo personali come ovviamente spesso capita quando si parla di personaggi del genere che giustamente vengono considerati dei mostri per quello che hanno fatto ma se si vuole allargare la propria conoscenza è anche giusto secondo me a volte distogliere un attimo lo sguardo da quello che può essere il nostro giudizio personale e cercare di rendere le cose più analitiche possibili e questo ha fatto mizuki che era tra l'altro secondo me un grandissimo innovatore in alcune sue opere credo che sia stato il primo vero autore di graphic journalism al mondo ma magari sto parlando per ignoranza e ce ne sono stati anche decenni prima di lui questo non lo so però per quello che riguarda la mia conoscenza sicuramente lui si meritava questo appellativo c'è un altro autore che è stato molto attivo durante gli anni 70 anche perché poi è tristemente prematuramente scomparso il decennio successivo ed è kazuo kamimura di cui vi ho già parlato in lungo e in largo anche grazie ad una monografia a lui dedicata e vi ho parlato molto approfonditamente anche di quest'opera ovvero quella che io preferisco in assoluto della sua carriera dosei jidai l'età della convivenza quest'opera non solo è meravigliosa e si lascia seguire davvero con una passione incredibile dall'inizio alla fine dal primo al terzo cicciosissimo volume è anche un manga che fece tantissimo scalpore parlare di sé in giappone perché parla di una coppia un ragazzo e una ragazza che convivono ebbene qual è il problema direte voi nessuno effettivamente solo che loro non erano sposati e convivere senza essere sposati in un paese così strano e particolare come il giappone era visto davvero davvero malissimo e non tanto per era davvero così tanto che questa cosa porterà anche ad avere tanti momenti deleteri in questo rapporto porterà questi ragazzi a struggersi in maniera veramente ingiusta e cattiva fino ad un finale davvero super drammatico che non mi sarei mai aspettato quindi oltre a raccontare una bellissima storia è un manga che racconta anche uno spaccato di giappone che purtroppo tende a rimanere ancora un po attaccato all'attuale generazione dei nipponici e poi come ho messo keiko takemia non posso che mettere anche la sua collega amica e rivale moto aio che nel 1972 ha iniziato la sua opera forse più importante ovvero po noichi zuku il clan dei po solitamente non sono un grande amante dei vampiri o meglio c'è ovviamente qualche film qualche romanzo che mi piace su questo genere su questa tipologia di racconto orrorifico però la deriva che ha preso negli ultimi anni questa cosa non mi piace per niente invece mi piace molto come affrontava la cosa moto agio che rendeva il tutto in maniera molto romantica molto decadente e così è anche per questo racconto che ci narra le avventure o disavventure sarebbe meglio dire di edgar e mary porsnell i due protagonisti che appunto entreranno loro malgrado o meglio in maniera diciamo casuale anche se non proprio così attraverso una serie di incidenti in una famiglia di vampiri e da lì in poi vivranno una serie di avventure appunto barra disavventure attraverso le epoche questo perché ovviamente essendo vampiri i due non invecchieranno mai e questo è tutto per la top riguardante gli anni 70 ovviamente non sono andato così tanto nello specifico come sempre sapete che potete venire in live a chiedermi quello che volete su ognuna di queste opere se volete approfondimenti fatemelo sapere anche nei commenti qui sotto e mi raccomando lasciatemi anche la vostra top degli anni 70 se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi condividetelo attivando le notifiche cliccando sulla campanellina e aprite il box informazioni qui sotto che è pieno di info utili su come aiutare il canale noi ci vediamo alla prossima e ciao grazie